Domenica 23 ottobre la comunità di Cagli ha accolto i tanti catechisti e operatori pastorali provenienti da tutta la diocesi e radunatisi attorno al Vescovo per ricevere il mandato proprio nel giorno della giornata missionaria mondiale. Il Vescovo Armando Trasarti che nel suo intervento ha ricordato come dalla fede nasce l'evangelizzazione ha anche richiamato i catechisti e gli operatori pastorali ad andare all'essenziale senza dare per scontata la conoscenza di Gesù. Abbiamo chiesto a Don Marco Presciutti vicario pastorale il senso di questa celebrazione. Il senso del mandato è sentirsi cristiani non per noi ma cristiani per qualcosa di più grande. La Signoria di Dio è un mondo diverso per cui ci riscopriamo chiesa inviata, chiesa a servizio. È bello sentire che davvero l'incontrarsi, ascoltare il Signore, fare esperienza di Lui spinge fuori, contagia, fa sentire la voglia di condividere quello che si è e quello che si ha con tutti fino agli estremi confini della terra. Anche Don Matteo Pucci, neosacerdote, ha portato la sua testimonianza di giovane che ha accolto la chiamata di Dio a mettere ordine nella sua vita. L'esperienza di noi giovani è un po' come una camera piena di scatoloni dove ogni esperienza è che facciamo uno scatolone colorato, però tante volte non ci accorgiamo che gli scatoloni non devono essere messi a caso ma hanno un ordine e in questo ordine c'è Cristo che ci chiama, ci chiama all'amore e al servizio. Questa è la mia esperienza e dovrebbe essere l'esperienza di ogni giovane, essere amato per poter amare e servire la Chiesa e il mondo.